Cambiamo argomento, commissariati organizzati in distretti come a New York. Da oggi a Roma la polizia si avvicina ancora di più alla cittadinanza e c'è anche una novità assoluta. Nasceranno due nuovi commissariati e un posto di polizia a Corviale. Ilaria Dionisi. Roma divisa in 15 distretti di pubblica sicurezza, uno per ciascun municipio. I 24 commissariati di polizia costituiranno invece lo sportello avanzato di questi nuovi distretti, soprattutto nei quartieri più estesi e problematici. La questura capitolina si riorganizza su un modello americano per controllare meglio il territorio e venire incontro alla domanda di sicurezza dei cittadini in una metropoli così complessa come quella di Roma. Una città dove peraltro esistono problemi di criminalità diffusa, esistono problemi di degrado, esistono problemi di infiltrazione criminale. Se i cittadini percepiscono in sicurezza, noi una risposta in senso contrario la dobbiamo dare. Due nuovi commissariati verranno istituiti al Porto Ense nella zona di Castelverde. Un nuovo commissariato distaccato verrà creato alla Dispoli, mentre un nuovo posto di polizia nascerà a Corviale. Quando istituzioni e Stato camminano insieme, siamo in grado di battere la criminalità, le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Questa riorganizzazione ha sottolineato il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, migliora l'ascolto dal basso dei singoli municipi. Diminuiscono gli omicidi, ma non i femminicidi, ha spiegato il capo della Polizia di Stato. Per Gabrielli occorre proteggere il tessuto socio-economico della capitale in questo contesto di crisi economica. La criminalità e la criminalità organizzata potrebbero avere territori estremamente favorevoli e appetibili.